Buon momento al raggiungo il numero massimo di presenti, l'accesso è rallentato per garantire gli standard di sicurezza. Grazie per la stessa. Attention please, we're entering the call of the year, making low down for five security standards. Make up our waiters. Attenzione, por favor, in tempo de espera un po' dià prolongante para registrar gli standard di sicurezza. Grazie. Grazie.